...di cottura, però molto comoda perché si può evitare di salarla. Brava, vera? Vattene a posto, grazie, metti dentro. Holandese, lunga, fusolata, bianca, molto saporita, brava! Scientificamente si chiama Tubero. Ricordatevelo, ragazzi, perché... Avrei portato questo. Bravo, Martò! Qui, ma non mi ruba! Aiuto! Aiuto, miseria! Professor Strava! Alba, non mi stieni qua, c'è un topo! Alba, non mi stavo! Eccolo là, lo vedi? Eccolo là, lo vedi? Ma che fai, trevi? Non cazzo, vengi a... Osservare! Arrivederci! Ascolti la faccia E così nessuno ti riconosce Noi a quel punto Scattiamo le fotografie Che poi mandiamo in giro per tutta la scuola Alziate con gli esplosivi Comunque come si dice bene Non butti Cosa è? Non lo fa per niente Cosa è? Non lo fa per niente Stando male No, quello è legato è stato proprio E poi mandiamo in giro per fare Eccolo di Il signore desidera Credo